Un lavoro a doppio binario tra l'emergenza sanitaria e la progettazione ordinaria. Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, sintetizza i primi 100 giorni di governo. I numeri che raccontano la gestione dell'emergenza pandemica parlano dell'aumento dei posti di terapia intensiva da 115 a 237, il potenziamento delle USCA, 10 milioni di euro per il rientro a scuola in sicurezza e 26 milioni di euro di contributi per la ripartenza e ristori delle attività colpiti dalla pandemia. Ma proprio sulla ripartenza economica e sulla gestione delle restrizioni, il presidente ha ribadito il bisogno di un maggior confronto tra Stato e Regioni. Ieri, nella lettera che ho fatto a Speranza, sono stato io a proporre al ministro, come ho fatto in passato, l'ipotesi di introdurre delle ordinanze da parte della Regione, che siano dell'ipotesi di giallo rafforzato, che consenta una maggiore operatività, un maggiore respiro alle attività economiche durante la settimana, ma poi nel fine settimana, quando il rischio di assembramenti è più alto, è più elevato, si può arrivare a delle restrizioni anche da parte della Regione. Sulla progettazione extra-covid, invece, si è ribadita l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 per 11 milioni di euro, la reorganizzazione, il potenziamento dell'ufficio speciale ricostruzione con 72 assunzioni aggiuntive e l'apertura di sedi distaccate per accelerare le pratiche, specialmente quelle relative ai danni lievi, che si punta a chiudere entro il 2021, e infine le infrastrutture. C'è il tema del corridoio triatico, che è un tema essenziale per la nostra Regione. Poi c'è il tema intermodale, porto, aeroporto, interporto, e che è un tema altrettanto fondamentale, perché il ruolo del porto, dell'aeroporto e dell'interporto è un ruolo necessario e nevragico per guardare la nostra Regione in una prospettiva anche extra-regionale, internazionale. Poi c'è il tema della viabilità che ci collega alle altre Regioni, quindi la Fano Grosseto, la Salaria, la Mezzina, la Pedemontana, le Intervallive, che sono strutture e infrastrutture essenziali per agevolare l'operatività degli artigianati, l'interconnessione della sanità con i territori, per agevolare quello che è anche lo sviluppo economico, turistico e commerciale.